Allora, le diocesi del Piemonte e della Val d'Aosta hanno aderito, direi con grande convinzione, alla giornata di apertura dei beni culturali ecclesiastici, il Mab 2019. Lo facciamo nella consapevolezza che i documenti, gli oggetti, i libri sono parte del nostro DNA. Di là della fede di ciascuno, questo patrimonio è importante e fondamentale per poter conoscere il nostro passato e avere gli strumenti necessari per decidere cosa fare della nostra vita e come progettare il futuro.